Ciao a tutti, ho appena finito di fare il video, ho parlato per 20 minuti e non avevo acceso il microfono quindi ora controllerò, che bello, prima di iniziare con questo video se vi state chiedendo che rossetto sto indossando è il 206 di Wicon della linea Mattificent il Tandoori Spice e ve lo dico perché devo ringraziare Alessia, una mia follower fedelissima e dolcissima che mi ha fatto questo regalo dall'Amazon Wishlist, è un rossetto confortevolissimo color zucca molto bello e ti ringrazio, sei dolcissima, pagini pistacchiosi a te e capirai perché te lo dico. Allora, questo è un video in collaborazione con un sito asiatico, credo cinese, che si chiama JJ's House, realizza abiti da cerimonia o per occasioni speciali. Quando mi ha chiesto di collaborare sono stata felicissima, primo perché è un sito nuovo per me, secondo perché ho dato uno sguardo e ho visto che aveva cose di gran gusto, terzo perché ho un matrimonio ad agosto che in realtà sarebbe dovuto essere proprio oggi, 2 maggio, ma è stato rimandato ad agosto speriamo che si farà. Quindi ho scelto 4 modelli e ho le mie preferenze, ma ho bisogno del vostro aiuto, secondo voi quale dovrei indossare? Prima di mostrarvi questi capi, qualche informazione, i capi ci hanno impiegato circa un mese per arrivare, per il semplice fatto che potete scegliere di ordinare una delle taglie a disposizione oppure fornire le vostre misure e vi sarà fatto a pennello per voi, proprio come se andaste in una sartoria, perché di questo si tratta, è una sartoria online. Tra l'altro di ogni modello potete scegliere tra almeno 50 colori diversi, quindi, insomma, scegliete il modello, date le vostre misure, scegliete il colore, cosa volete di più. I prezzi sono medi, parliamo dai 100 dollari in su ai massimo 200-220, però vi assicuro che con in media 150 euro vi portate un abito di ottima fattura, rifinito perfettamente, cucito, cuciture perfette, come lo volete voi e tra l'altro ogni abito, ragazze, mi rivolgo a voi in questo momento a delle piccole coppette preformate, quindi lo potete utilizzare senza reggiseno e non dovete proprio porvi il problema ed è ottimo anche per quegli abiti che dietro hanno delle scollature molto profonde, molto belle. Inizio a presentarvi gli abiti ed è stato difficilissimo, sarà difficilissimo farveli vedere in toto, però mi aggrappo alla clip che vi ho fatto, le riprese sono bruttine ma sono sola in casa e non avevo un cameraman a disposizione, scusate. Non vi nego, non nascondo che ho preso dei chili, quindi non sono la persona su cui questi abiti daranno il loro meglio, non li valorizzerò al top, quindi vi lascio giù il link dei vestiti. Il mio codice sconto è per ogni informazione, andate sul sito e vedete un po'. Il primo vestito che vi mostro è che il mio preferito è questo, di questo bellissimo color fluo elettrico in tafta e come vedete ha delle coppette preformate, quindi non c'è il problema del reggiseno. Ha uno scollo all'americana e poi arriva al collo con questi lacetti che si vanno a incrociare dietro sulla schiena formando un motivo bellissimo, super elegante ma anche molto sensuale. questo abito è fatto, insomma è stretto fino sotto il seno, in vita inizia la parte della gonna che è svasata con delle pieghe, ha una sottogonna quest'abito, quindi tutti gli abiti sono foderati con sottogonna senza rischio di trasparenza. L'abito, la particolarità dell'abito è che è asimmetrico, quindi mentre davanti termina sotto il ginocchio, dietro è lungo con un leggero strascico, quindi arriva ai piedi e lì supera abbondantemente. È stupendo, è stupendo e penso che è al primo posto tra quelli che vedrete, penso che sarà quello che indossero, però aspetto di conoscere la vostra opinione. Spero riusciate a capirne un po' più il senso vedendo la clip. Vorrei farvi vedere le rifiniture, cioè è cucito alla perfezione, i bordi sono cuciti perfettamente, quindi sembra che è un capo di qualità e come vi dicevo ha la sottoveste in questo wall, tono su tono. Questo era il primo vestito, il secondo vestito che vi mostro in ordine di preferenza è un vestito un po' principesco se vogliamo, un po' più classico ed è fatto così. Innanzitutto è in questo color definito jade, è un verde tendente allo smeraldo e questo ha la parte superiore tutta in macramè, in pizzo. Anche qui sotto c'è una specie di bustino preformato che voi non riuscite a vedere in questo momento, ma vedete? All'interno ha questo bustino e quindi niente reggiseno, siete a posto così e ha la manichina un po' corta, rifinita perfettamente e dietro lo scollo è così, cioè una goccia, un gancetto e la zip. A questo punto sotto il seno c'è una piccola cinturina in questo tessuto elegantino così leggero tipo velo e poi parte la gonna lunga 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 fino ai piedi e anche un po' si dritta ma ha un leggero volume perché al di sotto ha la sua sottogonna in raso, sempre di questo bellissimo colore, vedete? Allora, questo è un abito che sicuramente mi sta bene perché essendo così lungolineare slancia molto la figura e è molto carino, è molto classico, sembra un abito da damigella, ecco, è in lizza come secondo classificato per appunto capire quale sarà quello che indosserò e al secondo posto appunto, spero di essermi spiegato. questo qui, ah, tra l'altro so quel cartellino che vi ho mostrato, vi dice di non rimuovere le targhette perché c'è comunque la possibilità di fare il reso e chiedere il rimborso, bello, bellissimo, bellissimo anche questo. Il terzo vestito che vi mostro mi ha colpito molto perché rispecchia molto il mio stile, però poi indossandolo, non lo so, mi sembra che mi infagotti un pochino e poi l'avevo pensato per maggio, effettivamente forza ad agosto è un po' troppo pesante. Vi faccio vedere, allora, anche questo ha la parte superiore in a pizzo e stavolta la manichina è proprio corta e ha sotto un bustino color champagne, sotto il seno c'è questa cinturina in taftà, poi sotto parte la sua gonna così con queste pieghe ed è una gonna molto vaporosa, un po' anni 60, anche questa è asimmetrica perché davanti arriva sotto il ginocchio, dietro arriva a metà polpaccio, quindi il taglio è molto particolare, appunto un po' vintage, non lo so, dietro è molto lineare, appunto è fatto come davanti a un anzino. La gonna è questa, è bella vaporosa anche perché come tutti gli altri abiti anche questa è una sottogonna, quindi c'è un doppio strato, bello sì però, trovo che mi infagotti un po', ditemi cosa ne pensate magari. L'ultimo abito è quello che mi ha delusa un po' di più, ma non per niente, mi va un po' largo sul seno e poi non lo so, lo trovo un modello un po' troppo classico, su di me, sulla ragazza, sulla modella mi era sembrato splendido, non che non lo sia, ma appunto non ce lo vedo bene su di me. Il colore è stupendo perché questo colore ciliegia è già fantastico, anche questo sopra è in pizzo tutto lavorato, questa manichina in realtà va sotto la spalla scesa così ed è un dettaglio molto carino però è un dettaglio che lo rende un po' scomodo perché si ha sempre l'impressione che ti stia cadendo qualcosa. Sotto c'è questo tessuto in wall, anche qui abbiamo una gonna bella, vaporosa, morbida, che scende svasata ma morbida e questo è lineare, arriva simmetrico avanti e dietro sotto il ginocchio e dietro è così, semplicissima, con la sua zip e aiuto. E quindi è questo qui. Il colore mi fa impazzire, però appunto non lo so, è come se non mi soddisfacessi. Vi faccio notare anche in questo caso le rifiniture da manuale, le cuciture sembrano, non so se siano fatte tutte a mano ma non credo insomma, ma sono da sartoria a tutti gli effetti, nessun taglio, nessun filo fuori posto, niente di niente. Bene, ho finito di mostrarvi questi capi, adesso sta a voi decidere se dare uno sguardo in più al sito. Io comunque sono stata contenta di aver accettato questa collaborazione e penso proprio che da questi abiti uscirà quello che deciderò di indossare in occasione di questo prossimo matrimonio. Io intanto vi ringrazio per aver guardato questo video e per aver passato una ventina di minuti con me. Noi ci vediamo molto presto, abbiate ancora un po' di pazienza. Ve l'avevo detto che presto tutto sarebbe tornato alla normalità e piano, 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 piano. Ci stiamo avvicinando alla luce, si spera. Un bacione, a presto. Ciao amici. Ciao amici, ciao. Ciao amici. Ciao. 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 Ciao.